allora cari amici ben ritrovati sul mio canale oggi apriamo una cosa straordinaria questo non è un cazzo di foto amici qualcosa di più incredibile tata cos'è cari amici del cazzo c'è d'inizio eccola qui cari amici la vedete non è che mi hai ripreso ecco che mi sento abbastanza soddisfatto di dire che questa è una bottuta playstation 5 appoggiamo un attimo qui cari amici scatolo un bel bambinello amici allora cominciamo ad aprirla piano nel caso di rivendita chiaramente dicevi piano 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 il sigillo ecco cazzo sono rovinato ora lo copriremo potresti essere tu un possessore di questa playstation usata venduta come nuova sicuramente incredibile e pesante ma vedi pazzesca no sto godendo ragazzi ecco qui questo sembra sia il primo contenitore consumo dei cavi e del joystick vedremo dopo perché ora vediamo la bimba cazzo amici ho paura di romperla col cazzo 500 euro ecco amici c'è la potenza ragazzi della tecnologia un quadro a qui amica cos'è questa cos'è questo un luogo straordinario ecco un luogo straordinario ecco cos'è questo è il contenitore delle uova amici cos'è questa oddio amici cos'è cosa c'è cosa c'è cosa c'è qui dentro amici ecco qua il joystick straordinario cavo alimentazione vari libretti che non servono a niente istruzioni per cosa per questa cosa questa è la base per tenerla in piedi cari amici ecco qui abbastanza plasticosa però sempre straordinaria cavo hdmi ecco amici guardate la quina questo joystick cavo cavo e se c'è un 5 bene amici poveri adesso io vado a giocare voi andatevi a vedere qualche cazzo di video di youtube di gameplay ok ciao